Più di mezzo milione di euro confiscato dai conti bancari personali, due automobili sequestrate eppure un immobile in provincia di Bergamo. È stato questo il maxi provvedimento di confisca ratificato dal Tribunale di Pesaro che ha condannato un imprenditore edile di 36 anni in seguito a un'approfondita verifica fiscale della Compagnia della Guardia di Finanza di Pesaro. Le Fiamme Gialle hanno infatti scoperto una consistente evasione fiscale superiore al milione di euro a carico dell'indagato che è titolare di una ditta operante nel settore delle costruzioni di edifici residenziali. Imprenditore che secondo la Guardia di Finanza si è reso responsabile del delitto di omessa presentazione della dichiarazione annuale dei redditi per l'anno di imposta 2016. L'ispezione minuziosa della finanza ha però permesso di ricostruire i reali guadagni nascosti cioè oltre un milione occultato al fisco e recuperare dunque la cifra attraverso la confisca di beni. Oltre alle sanzioni amministrative l'imprenditore è stato deferito alla procura della Repubblica di Pesaro che ha istruito un procedimento penale che ha portato alla condanna di confisca di denaro e beni ma anche a una pena detentiva.